Signori e signori, questa è la nostra storia che si intitola Sofia e l'alieno. Un aereo giallo che volava verso non sappiamo dove, passando sopra l'isola delle stranezze, scaricò il mostro Sofia, che aveva bisogno di fare la pupù. Che tuffo per il mostro Sofia, il povero pescatore. Sofia si addentrò nella boscaglia per trovare un posticino, giusto quando un altro oggetto sembrava precipitare dal cielo. Un'astronave e un alieno. L'alieno e Sofia fecero subito amicizia e parlarono, parlarono, parlarono. Mi sono spiantato, dov'è il meccanico? Ma scusa, da dove vieni? Da Plutone! Su una nave, intanto i turisti, scorti bizzarri personaggi, cominciarono a fare strane congetture. Ma cosa stanno facendo la guerra? Ma è terribile questa cosa! Mamma che me ne importa! Oh yeah! In realtà i due stavano progettando di partire insieme Ecco Plutone partiamo E così finisce la nostra storia vi è piaciuta? Giulia Pulcino 2014 Zeno Cagnolino Blu Alessandro Puzza Oh Yeah Riccardo Titanic 2014 Grazie a tutti